Ciao a tutti, io mi chiamo Elise e siete sul mio canale e oggi sono qui per fare il Fluff Man Gigante! Vi servirà colla vinilica, schiuma da barba, amido di mais, acido borico, si può trovare in farmacia e Dixon. Viene con il Dixon, con il perlana e basta. Per sciogliere l'acido borico, perché ve lo vendono in polverine, dovete mettere 250 ml di acqua e 4-5 grammi di acido borico. L'acqua deve essere bollente, ci aggiungete l'acido borico in polvere e girate. Quando si scioglie lo lasciate raffreddare. Allora, per prima cosa dovete aggiungere la colla nel vostro recipiente. Aggiungiamo la schiuma da barba. L'importante è che sia meno della colla. Mescoliamo bene il tutto. E adesso che avete aggiunto colla, schiuma da barba e se mescolate, aggiungete l'amido di mais. Rimescoliamo bene. Adesso dovete aggiungere il colore. Ma perché mi viene sempre rosa così? Io voglio la rosa per il tastone. Ho preso un altro rosa e se lo fa diventare ancora più chiaro ho portato anche il bianco. In modo che lo sbianca. In modo che lo sbianca. Accida un tali scarma. Allora, adesso aggiungiamo un pochino di acido borico. Ne dovete aggiungere un po'. Adesso aggiungiamo il nostro Dixal. Già si sta raddrizzando. Dopo che ho fatto questo. Poi questo. E poi questo. Via! Ho fatto anche questo. Mi è toccato cambiarmi. Ecco ora, grazie ai ragazzi, eccoci tornati. Ho lasciato riposare lo smile. Sono molto fluffy. Questo video è finito. Se vi piacciono i video di questo genere mettete i pollici. Su iscrivetevi al mio canale. Ciao! 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 Grazie a tutti.